Da tempo che io ho parlare con te, noi ci scrivevamo e fra alcuni secondi potrò parlare con lei. Ma che sfortuna perché noi parliamo in diverse lingue, ma abbiamo tante cose in comune. Anche lei vuole imparare italiano, però c'è una barriera della lingua tra di noi. Ho bisogno dell'interprete, voglio sentire la sua voce. Ciao, ciao, tradurrò la tua conversazione nella lingua cinese. Ciao, devo parlare con te delle cose personali, ma mi confondo tanto, però mi sembra... Si, si, continua per favore. Voglio parlare sempre con te, voglio essere con te. Ho se conne, zai chi. Ho明白. Ho molto piaciuto, vai来 va,我的地址 è... ...北京市. Ho molto piaciuto, vai fare l'interprete, voglio sentire l'interprete. Però технологie idut вперед, e già oggi... ...Vous puoi utilizzare совершенной програмma перевoda, ...la funzionale автомaticamente e bez оплаты per minuti перевoda. Переводite без посредников. Droid Translator. Говорi с миром на своем языке. Качай прямо сейчас с Google Play. ... ... Grazie.